Un macchinario medicale di ultima generazione. In questo consiste la prima donazione che l'Associazione Vivo a Colori, a poco più di un anno dalla sua costituzione, ha effettuato alla Breast Unit dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Omnia è un computer touchscreen collegato ad un manipolo in grado di eseguire diversi tipi di trattamenti, tra cui la ricostruzione non chirurgica dell'areola mammaria e del capezzolo a donne sottoposte a mastectomia radicale. La micropigmentazione dell'areola mammaria prevede l'inserimento sotto la pelle di un pigmento privo di metalli volto a ricostruire e ricreare la zona dell'areola e del capezzolo. L'obiettivo è quello di andare a ridisegnare in 3D un'areola quanto più naturale possibile, quanto più simile a quella dell'altro seno. Oltre al dispositivo, l'Associazione Vivo a Colori continuerà a supportare l'Azienda Ospedaliera di Perugia con l'acquisto del materiale di consumo che serve per l'utilizzo del tatuatore. La cerimonia di adorazione si è svolta presso la sala Montalcini, situata nell'edificio del Creo di Perugia.